Ciao Marco, ciao Para, ciao ragazzi Ciao Oggi unboxing di un'altra Dunk perché le Dunk non bastano mai dopo il 2020, 2021 si va avanti a Dunk Dunk dopo Dunk dopo Dunk 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 Oggi una Callaway stupenda College Navy Molto bella Mi piace, mi piace molto Il modello è da donna per cui come sempre se siete interessati e guardate la taglia US dovete andare su di una taglia e mezzo quindi se siete un 9 US dovete andare su e prendere 10 e mezzo se invece state guardando la taglia europea prendete la vostra taglia andiamo a vederle queste qui sono un 8 e mezzo donna quindi sono un 40 che è lungo per la mia ragazza e va bene a Marco abbiamo scoperto per cui probabilmente se ne terrà Marco andiamo a vederle nel dettaglio via per la mia ragazza per la mia ragazza Sbam ragazzi Eccole qua Sbam ragazzi Va bene para Va bene hai ragione Guarda che bello Il contrasto del rosso Sulla linguetta e qua dietro Bella te ne lancio una Marco Ti lancio questa Il top ha molto semplice Due colori Il blu nevi E il grigio Il grigio Che è un grigio Abbastanza chiaro No non è grigio topo Tu Marco Non è grigio topo Grigio elefante Cosa dite? Grigio cemento Grigio cemento ragazzi Abbiamo concordato tutti e tre su un grigio cemento Il blu è il nevi La troviamo qui nella toe box E sui pannelli laterali E sul retro della scarpa E sulla linguetta Il top è interamente in pelle Questo top è in pelle Secondo me è migliore la parte grigia Come pelle La parte blu è un po' più durina E non è di grandissima qualità Mentre la parte grigia Devo dire che è una buona qualità Anche qui su tutta la guardia Abbiamo il nostro di fuori La traspirazione qui sul lato box Il nostro swoosh laterale classico Che torna su tutte le dunk Qui dietro sul tallone Abbiamo la nostra scritta Cucita in rosso Nike Che è molto bella Spicca molto E mi piace Tanto tanto E anche sulla linguetta La nostra scritta Nike Su patch bianca Qui in alto Eccola qua Con le scritte sempre in rosso Anche interne All'interno della scarpa Abbiamo il nostro collare Qua in raso Questo è raso Ed è anche un buon tocco Perché è una scappa da donna Raso Sai le ragazze Hanno bisogno di sentirsi Un po' importanti E con raso Le rendiamo importanti Nella insole Abbiamo il nostro logo Nike Air In rosso Non ha lo stack di zoom Perché non è una SB Questa Ma è semplicemente una Nike Dunk Lo normale Non SB E devo dire Che è molto bella Mi piace molto Le stringhe Sono grigio Argentato Un po' Anche sbarlucicante Viene con un'alternanza Di stringhe Marco Che tu hai in mano Che si sono slacciate tutte E sono qua E sono bianche L'alternanza di stringhe bianche Ma io tra le due Senza il minimo dubbio Andrei sulle grigie Tutta la vita Sulla grigia cemento Para tu Io le bianche Tu andresti sulle bianche Così Proprio contrasto Fate sapere Cosa ne pensate voi Su quale stringa Andreste La nostra midsole Classica Delle Dunk Bianca Con la Outsole Translucent Questo non è bianco Ma è translucent È gomma Translucente Riprende sotto La stringa bianca Bravo Bravo La stringa bianca Para riprende sotto Vedi che il para Ha un gusto Tutto suo Bene Mi piace molto Anche la Translucent Outsole Bella Questa colorway Ci sta E Marco Incredibilmente Se ti va bene Diventerà tua Già Ma la sto Lo studiando Bravo Uscite Settimana scorsa Se non sbaglio Dieci giorni fa A 100 euro 100 euro 99,99 Prese sull'app Sneakers Quindi mi è andata Anche un po' di culo Ressellano Probabilmente A poco più del doppio 180 200 euro Più o meno Come taglia Ragazzi Le dunk Non SB Ma le dunk Normali Andate Mezzo numero in meno Vi conviene Perché sono un po' Larghine O nel caso Come dimostra Marco Anche un numero in meno Può andar bene Però vi consiglio Mezzo numero in meno Non esagerate Ragazzi Quindi Una 40 A Marco Va al pelo Lui che ha un 41 Al pelo La 40 Ci va Ci va bene Queste le nostre opinioni A me piace tantissimo Marco Tu penso che La metteresti subito Quindi sarebbe la tua prima dunk low Sì Perché ho avuto solo una dunk Ma era personalizzata Era high Era una Molto Ragazzi Marco Anni anni Se la provo Facciamo un Unboxing Non c'è No Unboxing è difficile Comunque Anni anni fa Quando c'era Nike ID Tu avevi creato una Nike dunk high Con 25 colori diversi Con la scritta Left and right Sul tallone Delle scarpe Inverso Cioè sulla sinistra Avevi right Sulla destra Avevi left Una scarpa patta Che è ribelle Para Una scarpa patta Una scarpa patta Le follie Quale di Marco Poco come i capelli Poco come i capelli Marco Può farti vedere un attimo Ma non si vede Non si vede Niente Molti pensavano Che qua dietro Ci fosse una stanza E continuava Questo è un armadio Ragazzi È un armadio a specchio E quindi Marco Ogni tanto può venire A salutare Eccolo lì Quello è Marco C'è un cappello ribelle Alla razza dei gan Secondo me No Aquaman Sembra Aquaman Comunque Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa scarpa Qui sotto Nei commenti Mi piace Se vi è piaciuto il video E Sascriba al canale Per noi sarebbe Un super regalo Sarebbe un super onore Ecco Avervi iscritti Al nostro canale Youtube Ci vediamo Alla prossima E Tanti saluti Para Ciao ragazzi Saluta Ciao Ciao